Ron Johnson regista di Fino a qui tutto bene il film nelle sale dal 19 marzo è un film dedicato agli studenti fuori sede un film dedicato anche forse agli sforzi di questi studenti fuori sede raccontami un po l'inizio del tuo progetto si il progetto è partito perché l'università di Pisa ci ha chiesto di fare una ricerca e noi abbiamo fatto delle interviste agli studenti ai ragazzi che vivono adesso l'università e abbiamo sentito un sacco di storie aneddoti divertenti buffi ma anche quello che forse ci ha sorpreso di più una volontà di non arrendersi cioè essere molto coscienti della crisi il futuro che non si sa se lavoreremo mai allo stesso tempo avere una determinazione di dire però non mi voglio arrendere non voglio andare in difensiva e quindi magari fare qualcosa che non mi piace voglio seguire i miei sogni magari lo farò da solo ma voglio puntare comunque in alto e fare qualcosa che mi piace veramente questi studenti ci sei anche tu questo progetto beh questa è stata l'eredità maggiore secondo me che c'è rimasta nel senso che quel semino là poi ci ha permesso di prendere il coraggio e rischiare e decidere di fare un film in qualche modo veramente libero da tutto indipendente senza compromessi e riuscendo a trovare insomma cinque attori così bravi e qualcuno qualche professionista molto giovane che si è ad esempio penso al direttore della fotografia che anche lui ha fatto l'università abbiamo creato una sorta di team che garantiva una professionalità e però nonostante questo è rimasto tutto una sorta di spirito libero e di comunione ecco Dici nel film il folle persegue nello sbaglio fino al pezzo inimitabile tu sei quel folle? Eh un pochino sì si rivirisce alla torre di Pisa che in effetti insomma è vero se uno va a studiarsi avevano già fatto due cerchi della torre e le era venuta storta eppure hanno continuato nonostante sarebbe venuta storta lì per lì sarebbe un'idea folle no? E invece hanno perseguito in questa follia ed è arrivato un pezzo originale Credo che sia uno di quegli esempi che ti fanno pensare che in fondo gli errori, gli sbagli possono essere anche una grande opportunità Senti un film autoprodotto nel bene e nel male raccontaci qualcosa di questa esperienza Beh penso che la cosa più importante appunto che i cinque attori che appunto interpretavano questi ragazzi che vivevano insieme e spartivano un appartamento hanno vissuto per tutto il periodo delle prove, tutto il periodo delle riprese dentro quella casa dentro quel vero appartamento quindi sono diventati loro stessi dei coinquilini, degli amici con cui litigare, amarsi, scazzarsi fermarsi perché uno ha fatto la pasta a scotta o magari c'è quello in bagno Sì la pasta con nulla è un riferimento autobiografico ma penso che chiunque abbia fatto la vita dello studente o comunque del fuorisede perché ci sono tanti anche che lavorano da fuorisede a vissuto è quel momento in cui apri il frigo fondamentalmente sembra che non ci sia nulla ma tu riesci a fare comunque una pasta dignitosa e a mangiare una pasta con nulla come si deve a volte la pasta con nulla è la cosa più buona che puoi fare a volte se c'è un olio buono secondo me la pasta con nulla è buonissima Senti un aneddoto sul set che magari avete tratto dalla realtà di questa esperienza del documentario Guarda c'è stato un momento sul set dove l'appartamento a fianco, cioè il palazzo a fianco al set ha preso fuoco e quindi mi hanno chiamato gli attori nel mezzo della notte dicendo no qui sta bruciando il palazzo e io ovviamente ho pensato che fosse uno scherzo poi invece sono andato lì e c'era questa situazione abbastanza apocalittica siamo riusciti a uscire e portarli per la prima volta è unica in un hotel i poveri attori e da lì un po' ci è continuata questa cosa poi di volerci fare un po' finta di farci degli scherzi perché un po' quando urli al lupo al lupo e non arriva mai il lupo ecco la prima volta avevamo pensato fossero gli scherzi poi abbiamo iniziato a scherzare fra di noi sempre e a farci sempre più scherzi cattivi e insomma da ridere Senti chiudiamo fino a qui tutto bene e dopo come andrà? Ma io per ora fino a qui tutto bene quindi diciamo ci accontentiamo Continuiamo a sperare di ripetere fino a qui tutto bene per un po' e poi vedremo Grazie mille